Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio dedicato alle disquisizioni caotiche. Disquisizioni caotiche triggerate naturalmente dalle vostre domande, ossia domande e risposte. In cosa consiste questa bellissima cosa che io ho? Ho fatto un post, ho riservato quei pochi abbonati che ho su YouTube, quindi è visibile solo gli abbonati, nel quale dicevo fatemi una domanda e poi risponderò in un video. Ed ecco qua il video che è arrivato, le domande sono tutte queste, le ho scritte a belle grandi, così in modo da non dover indossare l'occhiale da vecchio, però le leggo, si leggono anche così, poco male. Vediamo un pochino quali sono, ah no, prima di farvi vedere le domande, le risposte, l'orologio del giorno, che è questo bellissimo Cartier Santos, orologio quadrato, o meglio, di forma quadrangolare, non è propriamente quadrato, 37 rotti millimetri di diametro cassa, un simpatico orologio che a me mi piace tanto e che mi dona, diciamo, quel nonso che è un orologio di forma ci vuole, anche così di pregio, no? Si graffia solo a guardarlo, ma d'altronde è uno dei punti deboli di questo orologio, che conoscevo già prima di acquistarlo, quindi bisogna combattere contro i punti deboli, accettarli più che combattere, e se l'orologio piace, piace. Prima domanda, Luigi10, hai dichiarato che hai cambiato idea sullo Yachtmaster, cosa ti ha fatto cambiare idea? Bene, all'inizio avevo fatto un video nel quale denigravo, prendevo un giro, o per meglio dire, perculavo, il buon Yachtmaster per essere il fratello scemo del Submariner, no? Diciamo, l'aspetto estetico è quasi lo stesso, molto simile, se non solamente che si passa da 300 a 100 metri, la ghiera è bidirezionale rispetto ad essere unidirezionale, quindi a cosa serve uno Yachtmaster se esiste il Submariner, che è più performante, tra virgolette? Poi dove mi sono ricreduto, perché è l'unico orologio ad avere la cassa, ancora la cassa, almeno per il momento, da 40 mm, morbida, dolce, sinusoidale, è veramente più elegante rispetto al Submariner, ma anche più compatto, la ghiera in platino mi piace, inizia a piacermi molto di più, e poi è meno visto e rivisto del Submariner, diciamo la verità, anche perché costa di più, probabilmente in tanti lo scartano anche per quel motivo lì, poi con il quadrante blu e la sfera rossa, mi piace moltissimo, è diventato, se dovessi mai spendere dei soldi in un Rolex, in un prossimo Rolex, probabilmente lo Yachtmaster quadrante blu potrebbe essere uno dei più papabili. Greybound 78, hai mai pensato di approdare anche su TikTok? Ci ho provato, ho scaricato l'app, mi sono iscritto per tre giorni, poi mi sono cancellato e ho completamente disinstallato l'applicazione, distruggerla completamente, perché è veramente una piattaforma che non fa per me, mi sono ritrovato in mezzo a tutta una serie di scenette inventate, cioè proprio, sai quando uno fa la scenetta appositamente per apparire ganzo in video, no? Eh no, non funziona così, le cose devono essere spontanee, e lì di spontaneità non ce n'è, tutto troppo veloce, vorticoso, finto, patinato, fake, mettila come vuoi, non fa per me. Comunque ho visto che ultimamente in molti stanno cominciando a fare scenette inventate anche su YouTube o su Instagram, insomma, poi li sta un po' alla personalità. Per me la piattaforma ideale è YouTube, dove posso fare dei contenuti, belli o brutti, poi non sta a me dirlo, ma sono dei contenuti, no? Strutturati, passo del tempo a riprendere un orologio, a studiarlo, a fare una minima di panoramica, oppure a rispondere alle domande, insomma, è tutto realistico, reale, ok? Non c'è niente di inventato qua, preferisco YouTube, fa per me, TikTok, bocciata. Andrea da Montebelluna, so che sei un amante dei bracciali e sul tuo Longin Legend Diver 39 c'è un fantastico chicchi di riso, ma in alternativa, un cinturino da John, come lo fareste realizzare? Ecco, ci ho pensato anche a questa cosa qua, perché dopo aver fatto il cinturino per lo Speedmaster, ho pensato, ma vuoi vedere che mi va a migliorare anche il Legend Diver? La trovo difficile, che vada a migliorare un bracciale così bello che il chicchi di riso, proprio l'ho acquistato per quel motivo lì, quindi una prova si potrebbe anche fare, però a quel punto lì non scelgo più io, perché l'ultima volta che sono andato a farmi fare da John Kustraps il cinturino per lo Speedmaster, ha scelto lui, perché sennò io gli dicevo, ma lo fai marrone con le impunture bianche, in testa di moro con le impunture bianche, proprio da spararsi, ce l'ho tutti così i cinturini fra un po', come diceva il buon Piero, no? Invece lui ha detto, no, facciamone uno così e uno così, le due falli così, tanto poi li scarto. No, non l'ho scartato, perché quello è Nabuc, è diventato il mio preferito e lo tengo fisso sullo Speedmaster, quindi a questo punto andrei lì con il Legend Diver e direto, cosa ci mettiamo su Fempo te? E poi vediamo come è il risultato, però sì, è un'idea che ho già preso in considerazione. Luni Marti, ciao Davide, avendo in vista l'acquisto dell'Omega Constellation Globemaster, quadrante bianco, mi piacerebbe sapere cosa ne pensi del modello, grazie Fabio B. Cosa ne penso del Constellation Globemaster? Per gli amici Globemaster. Eh, penso che sia un gran bello orologio, a me però quel quadrante bianco chiaramente non mi piace, perché mi sembra che quello con il quadrante bianco giunge solamente col cinturino, o mi sbaglio, non c'è un bracciale. Il bracciale in questo orologio è un gran bel pezzo di Susanna, però io, il mio preferito è quello acciaio e oro, c'è un Globemaster Sedna Gold e acciaio che è per me la fine del mondo, perlomeno a vederlo nelle fotografie, nei video, me ne sono guardati a decine e a decine, diciamo la verità, costa un mucchio di soldi, usato si poteva trovare di secondo polso recente, ha una buona cifra, però non ho mai avuto il coraggio di cliccare, perché? Perché in vita mia, udite udite, non ho mai provato il polso 1, un Globemaster, tanto meno il Globemaster acciaio e oro, e lo vorrei provare prima di fare un passo del genere, perché costa veramente tanto, però è tra i miei preferiti. Se a te ti piace quello bianco, prendi quello bianco, non c'è mica problema. È un po' uno di quegli orologi fuori dai radar, che se lo vedi al polso di qualcuno dici, bravo, bell'orologio. Andrea Darrigo, come si evolverà il mercato degli orologi? Volendo fare un gioco, quali secondo te saranno i marchi che si riposizioneranno e come? E quali tra i microbrand possono un giorno diventare grandi marchi? Allora, a me, sinceramente, no? Io vedo tanti video, tanti post sui social, sul mercato degli orologi, ma a me del mercato degli orologi, sinceramente, a me ne frega una bella cippa, cioè non me ne frega niente se quanti pezzi vende lo gin, quanti Rolex, quant'è il fatturato, se è in calo, non me ne frega niente. Cioè a me mi piacciono gli orologi, se lo devo comprare uno lo compro, se non lo compro no, non lo compro, lo prendo, non lo prendo, che mi frega del mercato degli orologi? Hai chiesto alla persona sbagliata, no? I marchi che si riposizioneranno e come? Non ne ho la più valida idea e non mi interessa. Io prendo atto di quando c'è un riposizionamento, di quando aumentano i prezzi e me ne faccio una ragione. Se l'orologio lo voglio comprare, me lo posso permettere, lo compro, se no, se penso che ha aumentato troppo, lo lascio in vetrina. Non è che vado su internet a scrivere dei post lotta contro l'aumento dei prezzi degli orologi, che è anche ridicolo. Cioè se ti vede qualcuno che non capisce niente di orologi, dici ma guarda questi qua che si lamentano del prezzo degli orologi. Ma gli do uno scappellotto qua dietro e gli dico vai a lavorare. Ma cioè, ma veramente? Ci lamentiamo del prezzo degli orologi? Non di comprare gli orologi, non sono un bene comune. Lasciali lì. Si può anche vivere senza. Studi, ti metti a studiare i libri degli orologi, l'orologeria, la storia, la tecnica, diventi un orologiaio. Ci sono un sacco di cose, no? Non è che perché un Rolex aumenta di prezzo, non te lo puoi più permettere, allora abbassa e abbassa, bisogna abbassare i prezzi, queste cose qua non compriamoli. Ma che minchia stiamo a dire? E quali sono i microbrand che possono un giorno diventare grandi marchi? Non ne ho idea. Non ne ho la più pallida idea. Vedo che tu hai tre belle risposte proprio di quelle. Non ne ho idea. E poi bisogna anche vedere, non è che tutti i microbrand auspicano di diventare un brand, un macrobrand. Cioè, c'è anche chi desidera rimanere un microbrand e sguazzare nell'esserlo, con meno responsabilità, meno impegno, ma pur sempre realizzando belli orologi. Cioè, non è detto che uno... Anche perché solitamente... Poi, vabbè, è logico che qualche microbrand diventerà un buon brand con la B maiuscola, nel senso distribuzione, marketing e tutto. Generalmente, quando un brand parte in quarta, come si suol dire, e lo fa con un... non parte da microbrand. Ad esempio, vi faccio un esempio, Nordkane, che è nata nel 19, è partita subito, non da microbrand, con gente alle spalle che proveniva da altre esperienze in marchi grandi, con un grande budget, e subito con calibri Kenissi e orologi da 3, 4, 5 mila euro. È un grande marketing. Ho capito? Anche Hublot è nata così, mi sembra. Cioè, si parte subito con una grande capitalizzazione e si va alla grande. Poi si succede anche dei microbrand, tipo Christopher World, è da considerare tranquillamente un brand affermato, no? Però è partito come micro. Però, quelli che possono diventarlo, io non lo so, non è che c'è una palla di vetro per dire tutte queste cose. Stefano M. Ciao Davide, come giudichi le mie personali regole per l'acquisto di un orologio? Uno, deve piacermi tanto, rappresentarmi, parlare di me, devo esserne orgoglioso e deve essere un boss nella sua categoria. Va benissimo, non c'ho niente da dirti. Il boss nella sua categoria però è quanto aleatorio, diciamo, è quanto soggettivo. Il boss della sua categoria, qual è? Il boss dei cronografi qual è? Cioè, ti prendi solamente un lang e un zonne oppure un qualcosa di... oppure boss della categoria e consideri anche uno speedmaster. Due, devo poterlo indossare senza patemi, acqua, colpi, revisioni, e rapine. Quindi no ai vintage delicati e no agli orologi troppo costosi. Liberissimo, io qua non sono d'accordo perché deve essere senza patemi, deve resistere all'acqua e colpi, le revisioni, le rapine. Quindi un orologio delicato non te lo compri, non ti togli lo sfizio. Cioè, un orologio per esempio come questo qua che si graffia facilmente quindi gli devi prestare attenzione, non lo compri perché si può graffiare, non sono d'accordo con te però va bene così. Le rapine poi, le revisioni poi, non so, se compri il boss della sua categoria e poi ti lamenti delle revisioni, di cosa stiamo parlando? È logico che il boss della sua categoria avrà una revisione fatta da dalla casa madre e non dall'orologiaio. Va bene, comunque è un po' contraddittorio. Tre, devo provarlo prima di acquistarlo perché la prova al polso spesso cambia radicalmente il giudizio. Ciao e grazie. si, la prova al polso toglie ogni dubbio però è anche vero che spesso io come me e tanti altri acquistano orologi semplicemente con un click è successo, succederà, non me ne vergogno. Come va? D'altronde che minchia ne so? Peppe, quale sceglieresti tra Omega Speedmaster Moon e El Primero Cronomaster 38mm? Bravo, bella domanda. Bella domanda a uno che possiede lo Speedmaster. Ora, se io ho lo Speedmaster al polso, quale avrò scelto secondo te? Ho lo Speedmaster e non ho il El Primero. No, dimmi te, quale ho scelto? È come dire a uno che ha la sciarpa della Roma. Scusa, ma a te ti piace più la Roma o l'Inter? Cioè, no? Ho detto questo a durare l'articolo un pochino perché ho scelto lo Speedmaster semplicemente perché al momento il Cronomaster da 38mm non fa per me. Lo vedo troppo piccolo. Se un giorno uscirà il Cronomaster da 40mm lo prenderò sicuramente, quasi sicuramente. Se fosse esistito il 40mm del Cronomaster avrei preso prima il Cronomaster. Probabilmente. Probabilmente. Poi bisogna trovarsi lì. Però probabilmente sì. Leonardo Leonardi, complimenti per il cognome. Ciao Davide, mi piacerebbe un'opinione sul Tudor Bronze referenza 790-12M e sulla scelta tra Grand Seiko SBGH 271 e Omega Acquaterra 41mm verde. Un saluto. quando si fa così nelle referenze il Tudor bronzo etc. Black Bay 58 tutto bronzo anche il bracciale bronzo. Bello, carino. Non lo comprerei. Un orologio con il bracciale in bronzo così pesante non lo comprerei. Tutto in bronzo è quello lì. Tutto in bronzo è pesante. Io ho un orologio che è in acciaio in bronzo l'Oris Diver 65 ma la cassa è in acciaio la ghiera è in bronzo il bracciale è metà in bronzo e metà in acciaio poi c'è sempre un Oris con la testa tutta in bronzo però c'è un cinturino un orologio tutto bronzo cassa, ghiera e bracciale io farei fatica se a te ti piace bravo del Black Bay 58 io preferisco quello in argento l'ho sempre detto in argento se lo trovo più particolare però poi tra tutti preferisco il Tudor Black Bay ghiera rossa quello da 41mm poi tra Gran Seiko SBGH bla 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 e Omega Acquaterra 41 il Gran Seiko che dici ti è quello lì è quello con i 36.000 alternanze orari automatico bello orologio e l'Omega Acquaterra 41 bello orologio quale scegliere io ti dico Gran Seiko è molto più raffinato è molto più ricercato è molto fatto meglio non lo so però è pur sempre uno di quegli orologi che in collezione se ci si può permettere la spesa è bene avere poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare perché come tutti cioè io me lo sarei potuto prendere un Gran Seiko a 36.000 sì che me lo sarei potuto prendere al posto del come cazzo si chiama questo qua del Cartier Santos al posto di un qualsiasi altro del Speedmaster che ho preso o di uno di qualsiasi quindi vuol dire che viene rimandata sempre questa cosa pur sapendo che è un orologio top da tre top viene sempre rimandata praticamente io ritengo che possa essere uno di quegli orologi che quando dopo un po' che hai un sacco di orologi interessanti ti divien voglia di prendere il Gran Seiko perché io come primo non lo prenderei non l'ho preso è un dato di fatto le mie scelte sono andate altrove mic 3 ciao Davide so che sono orologi diversi ma cosa sceglieresti tra Hamilton Morph 38 mm e Herblend Cap Camerat 37 io sceglierei l'Hamilton Morph 38 mm lo preferisco proprio come stile a parte il bracciale integrato mi è un po' stufato magari me lo avessi chiesto tre anni fa e avrei detto qualcos'altro però io sceglierei l'Hamilton Morph da 38 mm che attenzione attenzione quest'anno su questa gamma qua Morph ci dovrebbe essere anche una novità quindi state in campana Amteo73 ciao se dovessi realizzare una mini collezione di solo 5 orologi senza limite di budget da entry level fino a non oltre 8.900 come la faresti bravo ti mi dici senza limite di budget e poi mi metti il limite a 8.900 bravo sei un grande proprio cosa ti dico 5 orologi il limite è 8.900 prendi 5 orologi della mia collezione siamo tutti dentro 8.900 ecco fatto cosa prenderei un Santos uno Speedmaster un Omega Professional 300 un Rolex Explorer e poi un altro cosa potrei prendere uno Gin Legend e va eccoli qua 5 5 e mi scelte ce l'hai già ce l'hai lì Lorenzo Catalani 9939 una domanda provocatoria per tutti quanto la collezione di orologi o il lusso in generale rappresenta un sintomo di una noia esistenziale alle volte amiro i miei orologi con orgoglio mi piacciono davvero altre volte li guardo e dico ma che diamine ci faccio ma perché non uso il mio denaro in maniera più saggia un caso da 50 euro will do the same job saluti bravo semi marzullo gli orologi aiutano a vivere o la vita aiuta a orologiare meglio ma è logico che sono crisi esistenziali che ti fai patturni mentali seghe mentali per essere un pochino più francese che ti fai perché possono capitare a tutti nello stesso modo come avere una macchina a volte dico ma perché ho speso così tanti soldi in una macchina che ci faccio 10.000 km all'anno se tanto servono se tanto sono poi alla fine sono soddisfazioni personali cioè una gratificazione personale nelle cose materiali oppure ci diamo lo spiritualismo andiamo tutti a vivere dai remiti e a leggere la bibbia in spiritualità liberandoci delle cose materiali se no se siamo in questo cazzo di vita qua qualche soddisfazione dobbiamo togliercela che sia una vacanza o che sia una canna da pesca o una bicicletta perché costano anche 5.000 euro e passa quelle robe lì un orologio o una macchina o quello che vuoi te bisogna togliercela quindi gratificazione personale vuoi bene a te stesso ti fa stare bene con te stesso ad esempio se c'è una macchina decente fatta bene confortevole quando sali in la tua macchina e la guidi ti senti a posto ti senti bene ti senti anche sicuro lo stesso l'orologio ti dà il piacere di essere indossato sai di avere un buon orologio al polso quello che hai ricercato che hai voluto per tanto tempo se quella giornata lì la passi un po' meglio perché sei circondato da cose che ti piacciono poi io ad esempio io sono capace di spendere 2.000 euro in un orologio poi per esempio dell'abbigliamento non me ne frega niente 100 euro in un paio di scarpe per me è una fatica incredibile cioè veramente cioè no no vanno bene sto bene con queste cioè dipende da dare le cose uno è disposto a spendere tanti soldi in un oggetto e niente in altro cosa è la passione è la passione il piacere perché se fosse ostentare allora uno spende gli stessi soldi per vestirsi con le scrittine Dolce Gabbana e Cicco di Cacco no per farsi vedere ma non è ostentazione perché a me non mi piace non mi piace vestirmi firmato non mi frega niente poi Massimo Vermili vorrei conoscere davvero il tuo pensiero sul Tudor Tudor che adoro e ne possiedo due e chiederti se prima o poi ne entrerà uno in collezione per il tuo polso è importante vedere bene un Black Bay Ghiera Rossa che nella nuova versione ha migliorato notevolmente e che trovo bellissimo esatto il Black Bay Ghiera Rossa è uno di quelli papabili perché 41 mm poi se lo vai a misurare un pochino meno più sottile c'è il bel calibro Metas dentro e con la Ghiera Rossa si discosta un pochino da tutti da tutti gli altri e anche da quelli di Mamma Rolex detto questo il pensiero su Tudor il mio pensiero su Tudor è contraddittorio nel senso che sono orologi che mi piacciono che apprezzo che ritengo ottimi orologi ma che al col tempo faccio fatica ad acquistare perché li vedo come la serie B di quel marchio lì perché Tudor fa parte di Rolex e Rolex ha creato Tudor appositamente per creare qualcosa di più economico di più arrivabile una serie B nasce così che poi oggi siano fatti bene tutto quello che vuoi però a me arrivare lì e vedere prendere la serie B di un marchio che te lo dicono proprio loro mi dà fastidio poi questo non toglie che un giorno magari un Black Bay Ghiera Rossa lo comprerò proprio però questo è un parere mio sono bloccato magari fra sei mesi mi vedete col Black Bay Marco Panziera ciao caro Marco lo conosco anche di persona questo marchetto ciao Davide in futuro prenderai in considerazione di acquistare un Seiko o un Gran Seiko da aggiungere alla tua raccolta di orologi grazie in anticipo per la risposta un Gran Seiko un Gran Seiko e c'è io sempre non è che in futuro prenderai in considerazione la considerazione c'è già da mo che c'è dal passato nel presente nel futuro un Seiko un Gran Seiko sì un Buon Seiko da 1000 1500 2000 3000 euro sì un Gran Seiko da 4 5 sì l'intenzione c'è il Buon Proposito c'è poi ora per esempio Panerai non mi era mai piaciuto ora c'ho in fissa Panerai per esempio quindi passano tutti gli altri passano in secondo piano poi però magari trovo una buona occasione di un altro Rolex o di un Omega interessante passa in secondo Panerai funziona così non è che devo pianificare cosa comprare prima o comprare dopo Segovia Andreas Segovia Andreas quanto ti attizza il nuovo Moon Albino niente non mi piace cioè non mi piace è un bello rorogio mi piace mi piace ma non mi interessa non mi interessa è un nuovo Speedmaster con un'estensione di linea con un quadrante bianco no cioè sono già sono già sazio di Speedmaster c'ho il mio nero non vedo il bisogno viene uno bianco che poi non è il primo bianco ne hanno fatti anche altri del Coaxial o del Brodaro quindi niente è il primo Moon Watch diciamo che poi ci sono tanti che si sono sperticati sul fatto che Omega sa solamente fare queste novità il quadrante bianco la novità di Omega guardate come ci siamo ridotti come fanno per spillarvi soldi e si dimenticano di tutto quello che ha fatto Omega negli ultimi due anni ma volete che vi elenco tutte le novità che ha introdotto Omega in questi ultimi due anni intanto il calibro Coaxial 3861 certificato Metas manuale primo calibro coaxiale manuale di Omega e l'hanno presentato tac ti hanno sparato fuori questo qua poi subito dopo contemporaneamente o poco prima forse poco prima il 321 lo storico calibro 321 reingegnerizzato completamente da zero ci avevano lavorato degli anni per farlo poi te lo fanno vedere boom te lo buttano lì e già due calibri nuovi poi se non bastasse hanno presentato il terzo calibro il 1932 quello con il rattrappante e la ripetizione minuti un calibro super sofisticato che incassa anche uno speedmaster tra l'altro e poi il sistema spirate quello per regolare la regolazione della spirale della lunghezza della spirale che ti porta la precisione dell'orologio certificata zero più due secondi al giorno in questo qua questa roba qua l'hanno fatta poi mi dimenticherò qualcos'altro ma in questi due anni hanno sparato fuori queste due cose qua queste quattro cose qua e poi arriva quello ti mostrano un'estensione di linea con il quadrante bianco e la gente omenga sassano fare cambiare il colore del quadrante ecco la grande novità ma va a quel paese poi tra l'altro ho letto anche delle altre storie sul fatto che il quadrante bianco non è certificato per la missione spaziale anche lì non scappellato un testa qua e via allora intanto omenga non ha mai certificato nessun orologio casomai sono qualified che significa idonei e attesta l'idoneità perché omenga non è che ha fatto le specifiche come dicono tanti non ha fatto nessuna specifica fare le specifiche si significerebbe ok oggi facciamo un bando di un orologio che deve essere così 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 case costruitemi un orologio che abbia queste specifiche oppure una casa glielo dice te la costruisce queste è emanare delle specifiche omenga per l'orologio per il moonwatch non ha mai emanato alcuna specifica omenga ha richiesto a 10 case di mandargli un cronografo 10 case di queste 10 case 4 hanno risposto e 4 gli hanno mandati un cronografo tra cui emilton che gli ha mandato un cronografo da tasca andiamo in uno spazio con la cipolla e allora già scartato in partenza ne sono rimasti 3 gli hanno mandati 3 il Longin Widenauer l'Omega Speedmaster e il Rolex 6238 3 e su queste 3 loro hanno fatto dei test non è che gli hanno richiesto delle specifiche li hanno presi e li hanno testati per una marea di mesi a delle situazioni veramente di temperatura di pressione di vibrazioni qualsiasi cosa umidità per dei mesi erano prove distruttive cioè loro miravano distruggere l'orologio per vedere a quanto arrivasse la resistenza in ogni settore e l'unico che è sopravvissuto che ha resistito è stato l'Omega Speedmaster il Rolex fa lì il test umidità e temperatura mentre il Longin all'alta temperatura gli si è deformato il trasparente e gli si è staccato Longin Widenauer Widenauer perché a quel tempo in America l'importatore era Widenauer e Longin li doveva marcare Widenauer per problemi di importazione ecco tra questi il Longin era bianco era bianco quindi non è che l'hanno scartato perché aveva il quadrante bianco era tra quei tre lì che andavano a fare i test ha scartato perché si è deformato il vetro e distaccato immaginatevi un vetro plexi come tutti perché anche qua c'è da dire una cosina il vetro plexi l'hanno scelto perché nel 64 quando facevano questi test nel settembre 64 non esistevano cronografici con vetro zaffero quindi non è che e non esistevano cronografi automatici quindi inutile chiediti l'hanno scelto manuale perché nello spazio serve manuale no l'hanno scelto manuale perché nel 64 c'erano solo manuali cioè capito il cronografo automatico funziona nello spazio il rotore gira e casomai non dovesse funzionare anche lui c'è la funzione del carico manuale quindi che problema è se c'è il rotore attaccato e poi ti lo carichi manualmente ma in ogni caso è l'inerzia che fa ruotare il rotore non la forza di gravità quindi hanno scelto manuale perché c'erano solo manuali e hanno scelto plexiglass perché c'erano solo plexiglass e tra l'altro il vetro del longini in plexiglass si è deformato con il calore e si è distaccato quindi il calore al plexiglass cosa gli fa? invece quello dello speedmaster ha resistito e un'altra cosa che mi sono segnato è che la scritta professional professional sullo speedmaster non l'hanno messa dopo che è stato raggiunta l'idoneità è già da prima del 64 nel 64 che la scritta professional compare sui quadranti dell'omega speedmaster mentre l'idoneità l'ha ricevuta nel 65 ok? quindi non è nemmeno questa cosa qua detto questo quello che volevo dire è che non c'è nessuna specifica emanata dalla NASA è che la NASA ha preso tre orologi di serie di fabbrica se li ha fatti mandare e ha fatto i test tra cui c'era anche uno bianco quindi la specifica NASA per il quadrante bianco non esiste vabbè questa cosa qua ve l'ho detta così in passante vi ho aiutato la fonte è sicura ESD Big Bikes Tube fra i microbrands italiani l'unico che mi sembra interessante è il Memphis Bell Stingray cosa ne pensi di questo orologio? ma non è vero che fra i microbrands italiani l'unico interessante è quello lì ce ne sono decine di orologi interessanti tra i microbrands italiani diciamo che stanno diventando anche tanti anche troppi anche una rotura di scatole a un certo punto questo bellissimo questo bellissimo tutti bellissimi il Memphis Bell Stingray mi piace è uno di quelli della casa di Memphis Bell che mi piace perché loro di buono hanno che hanno uno stile unico proprio veramente uno stile sfrontato veramente da schiaffi in faccia o piace o non piace però perlomeno non copiano nessuno è unico li riconosci li riconosci e il Memphis Bell Stingray è forse quello più sobrio quello più canonico e mi piace quell'orologio lì tra l'altro è una casa che esiste da tanto tempo quindi gli orologi li fanno bene li sanno fare bene Epiguazza 8246 perché questi turri disegnano i calibri di fornitura su orologi di la rifaccio perché questi turri disdegnano i calibri di fornitura su orologi di fascia alta ma gli stessi poi si lamentano dei costi di revisione dei calibri in house non trovi che sia poco coerente non lo so se uno si lamenta sui calibri di fornitura e poi si lamenta sì non è coerente però vorrei anche vedere chi è perché lo prendo per buono che me lo dici te io non ho problemi a comprare orologi di fascia media diciamo alta non è che sono da 20-30 mila euro 5.000-6.000 euro con i calibri di fornitura dentro non è un problema se mi piace l'orologio lo prendo e non mi interessa e nonostante ci sia un calibri di fornitura probabilmente io mi affiderei ugualmente alla revisione della casa madre probabilmente non lo so poi sono cose che prendi lì su due piedi and giova hai mai pensato di creare una rubrica di storia dei marchi di orologi no l'avevo già fatto un video sui marchi di orologi era young guns però l'hanno visto in quattro cioè se io spendo energie tempo, studio, montaggio bla 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 per fare un video poi non è apprezzato e allora smetto di farlo non ha senso che cioè mi masturbo io cioè lo faccio per me stesso no voglio che qualcuno condivida con me e commenti con me un dato contenuto quindi è preferibile inserire le pillole di storia di marchio o anche di cose in una rubrica che è più vista no? per esempio quella dei vostri video lì ogni tanto ci infili una pillola di storia un pezzettino di storia di aneddoti di tecnica e rimane e lo vedono più persone e gli rimane maggiormente in testa raggiungi maggiormente il pubblico e questo è il bello di un certo tipo di format anche questo domande e risposte schiette però ogni tanto salta fuori qualche argomento che magari in 20.000 vedono gli rimane in testa fa bagaglio culturale capito? preferisco fare così Marco Girondelli cosa pensi dell'Omega Constellation Manhattan prima serie che a differenza di tutti gli altri ha la ghiera dentro al vetro e dove ci sono i quattro artigli a quattro viti dietro sì allora questo qua sì lo ricordo è a prima serie è a quarzo però è 34 mm al quarzo quindi è veramente piccolo è ha il vetro e la ghiera all'interno la lunetta all'interno del vetro con quattro artigli che lo tengono e sono funzionali tengono la pressione il vetro e sotto hanno le viti di tiraggio veramente un bel vedere e l'hanno fatto automatico per un paio d'anni 84-85 c'è anche la versione automatica bello a livello collezionistico può essere bello se uno colleziona Omega Vintage è bello è anche interessante sia storicamente che tecnicamente ma io non lo comprerei al momento perché io non faccio collezioni di Omega Vintage io se compro un orologio costoso come penso sia questo mi compro un orologio moderno contemporaneo al massimo di 1-2 anni o nuovo se invece voglio fare i vintage mi compro un orologio perché sto facendo la collezione di vintage sono ben incentrato su questi obiettivi e non mi muovo da lì è inutile che mi compri un Omega Vintage uno Zenith Vintage cioè cosa faccio non è il mio interesse preferisco concentrarmi però se ti piace è un bello orologio The Pepper 25 ciao Davide come è iniziata l'amicizia con l'amico Piero è iniziata nel 2003 quindi sono già 21 anni 21 anni perché io e Piero abbiamo sempre fatto parte di un gruppo motociclistico e ne abbiamo passate di cotte di crude per un certo periodo per la maggior parte del tempo lui è stato presidente vicepresidente di questo gruppo motociclistico locale e ci siamo divertiti abbiamo passato un sacco di tempo gli ho sempre riconosciuto capacità operativa capacità mentale e spirito di iniziativa però credo di essere stato anche un buon braccio destro al suo fianco e da lì abbiamo passato vent'anni praticamente fianco a fianco un giorno sì un giorno no momenti belli momenti brutti quindi cosa c'è non c'è niente da nascondersi da me a lui capito cioè qualsiasi cosa si dice chiaro e schietta e si volta pagina c'è poco da litigare o da Giovanni Farinazzo come vedi il futuro di orologi di stampo ferroviario come l'Omega Railmaster mi sembra un modello un po' trascurato dal brand e che il settore stia perdendo appeal sì in effetti il settore dedicato all'oroggeria ferroviaria è un po' scomparso c'era un periodo dove c'era l'Omega Railmaster il Longin non mi ricordo come si chiama quello che aveva lo Zero bello lassù in alto bianco o era Longin anche Hamilton faceva orologi ferroviari ma un po' che non si sentono probabilmente sono i cicli i cicli della moda vedrai che in futuro qualcosa succederà a parte che però Hamilton l'anno scorso ha fatto quel bel tasca commemorativo tanta roba quello lì voi vi perdete ma quando si parla di orologi ferroviari la prima cosa a cui si dovrebbe pensare è un orologio da tasca perché è così che è nato il tutto poi dopo verso la fine sono arrivati gli orologi da polso però Hamilton ha fatto la riedizione in edizione limitata di un bel tasca ferroviario l'anno scorso o due anni fa Carlo Bergamaschi ho scoperto per caso un micro brand italiano Nostas incassano Sellites V206 con NH34 per il GMT conosci questo marchio? si lo conosco l'ho visto al Watches of Italy l'autunno scorso non mi ha colpito più di tanto perché è il solito design di bracciale integrato a me mi ha stufato non mi fanno impazzire non sono per me forse il GMT mi sembra non me lo ricordo bene però mi sembra che proprio a loro glielo ho detto che il suo tempo non mi piaceva e il GMT forse era la soluzione migliore che avevano tra tutte però non me lo ricordo però mi ricordo di avergli detto questo però non me lo ricordo però mi ricordo di avergli detto questo Luca Michelti Breitling lo vedi alla pari di Tudor i WC e Omega cioè non si possono fare queste classifiche lo so che nella nostra mente ci sono i cassetti dove dentro ogni cassetto a un livello differente c'è un marchio o più marchi lo so anche nella mia mente è così però non è politicamente corretto ma noi non ci frega niente del politicamente corretto e andiamo a vedere un pochino chi è meglio Breitling io la vedo superiore a Tudor e i WC ma non Omega quindi io direi Omega Breitling Tudor e i WC la mia classifica è questa poi sono un fanboy di Omega e anche di Breitling cioè se io ho l'orologio lo porto più su se non ce li ho li butto nella spazzatura funziona così Pass Jazz cosa ne pensi dei nuovi King Seiko valgono circa 2000 euro a cui vengono venduti il solito discorso del valore dell'orologio ma non si ragiona così cosa ne penso dei nuovi King Seiko ho fatto due video recensioni sui King Seiko tutto quello che penso è positivo è detto lì mi piacciono non delle finiture sopra fine il calibro è sempre il solito evoluzione del 4R35 e così via sarà il 6R35 vabbè quello che niente di che ma ti ripeto gli orologi non si prendono solo per il calibro come ho preso il Breitling cronoma TGMT con dentro il sellita o letta non so nemmeno cosa c'è il King Seiko è un orologio che vale li vale cioè dipende quanto cavolo vuoi spendere te quanto lo vuoi quell'orologio cioè non dipende già se uno parte con li vale quei soldi me lo faccio dire dagli altri sei te che gli devi dare un valore a un oggetto sai quanti orologi vedo un giro che costano centinaia di migliaia di 30.000 40.000 70.000 non mi fanno nessuno né caldo né freddo ma non è che vado un giro a dire ma secondo te quello li vale no no quello li vale te che lo vendi quello li vale non mi frega niente lo lascio lì un bel Nautilus da 70.000 euro non me ne frega niente cioè non è che penso li vale non li vale poi non li posso spendere li potrei anche spendere perché se vendo tutta la mia collezione 50.000 euro ce li faccio ce li faccio li vendo tutti ci metto sopra qualcosa mi prendo un Nautilus da 70 sono contento non sono contento perché perché fuori dalla mia comfort zone cioè non non mi interessa è oltre nonostante costi tanto no non è che non mi posso permettere non voglio permettermeli quei soldi quindi ognuno deve fare questo ragionamento anche in base di 2.000 euro vendo tutti i miei orologi dal 500 magari 4 orologi da 500 e mi prendo quello lì sì no ne vale la pena lo voglio fare ma sta a te non è che devi chiedere agli altri se vale nessun orologio vale quello quello che costa nessuno nemmeno quelli da 100 euro Marco Tagliasacchi ciao Davide quale può essere per te se c'è un orologio che desidereresti ma è inarrivabile al momento ecco è il stesso discorso di cui sopra inarrivabile al momento cosa significa perché ripeto se vendo gli orologi uno me lo compro che è inarrivabile al momento da 70.000 euro ma io sono talmente pragmatico razionale che non mi interessa non vado a sfrucugliare nella mia mente tutti quegli orologi che non rientrano nel mio budget o nelle mie possibilità non ci vado nemmeno non è che mi metto a studiare un Nautilus contro un un Daytona del 69 non ci vado non mi interessano io l'orologio che desidero è quello che posso permettermi al momento ossia un Panerai magari un Omega un Rolex uno di questi tre se ci arrivo con facilità e mi metto a studiare tra questi diventano questi quelli a cui miro che desidererei non quelli inarrivabili inarrivabili non ce n'è non mi interessano proprio quelli inarrivabili capito ho finito tutto qua va bene meno mano ce la facevo ragazzi io spero vi sono piaciute le risposte e più che altro le domande siete voi che fate le domande se fate le domande a gigetto io poi dopo rispondo a gigetto vi ringrazio per essere arrivati fino qua e non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio il più spesso possibile qui su YouTube Love Love la 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 Grazie a tutti.